e allora amici in questo video andiamo a procedere al recupero di questa testata prima andiamo a utilizzare la modifica per montare le candele quelle piccole quindi ora vi faccio vedere in dettaglio il materiale che andiamo a fare poi vi descriverò i lavori che dobbiamo sistemare sulla testata che abbiamo detto nel video precedente e poi faremo qualche lavoretto che ho già individuato di fare alla fine anche se non c'è la necessità perché si vede che tanto guadagno non abbiamo su questa testata però è giusto che la vado a fare così aprirò sopra il collettore dopo che l'avrò sistemato e faremo anche una prova di flussaggio così anche per dare chiarezza al tipo di testata che abbiamo sottoposto al banco di flussaggio poi nel video precedente come già abbiamo parlato precedentemente andiamo a chiarire in dettaglio tutti i vari passaggi su questa testata della testata PBS e quindi alcuni di voi mi hanno chiesto in dettaglio dei lavori sulla 500 storica allora su quella 500 dobbiamo affrontare diverse lavori anche perché abbiamo ancora dei lavori in sospeso su altri motori quindi dobbiamo procedere pian pianino con i vari motori quelli da fare però su 500 siccome c'è da dedicare molto tempo vediamo nei prossimi video qualcosa farò vedere anche perché ci sono tanti viti da guardare in giro però io vi andrò a fare chiarezza su determinati passaggi vi andrò a spiegare perché è consigliabile fare determinati lavori e perché no e poi qualche volta andiamo ad analizzare i 700 proprio da corsa che tanti vanno a fare dei lavori troppo esasperati che volendo appena andiamo sul concreto a parlare bene a deve evidenziare bene quali sono le problematiche di questo motore alcuni si faranno chiarezza di quali sono le difficoltà perché tanti vanno non volendo a fare dei lavori che non vale la pena affrontarli questo è il discorso comunque andiamo su questa particolare lavorazione e allora quali sono le modifiche che dobbiamo fare intanto dobbiamo preparare di fare quattro boccole con la flettatura interna della candela e l'esterno da poter avvitare sulla testata del 112 Abarth quindi ci andiamo a fare pure un attrezzo per poter ammorsare la boccola per poter andare a piantare sulla testata e in questo caso io non vado a mettere né bloccafilette né altro materiale perché non c'è bisogno e se qualcuno ha difficoltà che si svita la boccola dopo verrà saldata e quindi è meglio fare questo procedimento di lavoro andare a mettere questa candela perché prima perché la testata è troppo ripassata per arrivare al rapporto di compressione poi perché dobbiamo andare a migliorare qualcosa sulla camera di combustione e poi la candela è molto ristretta e quindi eviteremo di fare autoaccensione lasciando proprio la candela al limite della testata poi ho procurato questo è il maschio della flettatura della candela perché ci sarebbe da fare l'attrezzo ma io per andare a diminuire i lavori ho lasciato il maschio che verrà poi montato sulla testata e lo andremo a sfruttare come pilota per la fresa da andare a fresare sulla testata e creare quella incavatura da mettere la battuta della boccola quindi prima dovete fare le boccole attorno e poi andarla a piantare sulla testata ora io vi farò vedere nel video poi come detto questa verrà spianata la superficie del collettore verranno chiusi i buchi e ripristinato di nuovo il condotto su questa testata come abbiamo detto come vedete le candele già sono al limite quindi con l'occasione montando una candela più piccola eviteremo di creare punti di autoaccensione della miscela di benzina e aria poi lavoreremo leggermente la testata è un altro lavoro da fare come in questo punto che vi farò vedere vediamo se riesco qui si è creata una lesione dovuto all'autoaccensione della testata che si è creata le temperature hanno creato una lesione sia perché qui è pure saldata e quindi è un punto debole che anche come strutturalmente materiale di sotto ce n'è poco comunque dobbiamo andare a risaldare di nuovo qua e fare la spinatura del collettore e poi alla fine andiamo a riflussare tutto e allora amici andiamo a montare il maschio guida che ci farà da guida per la fresa e ora andiamo a riflussare tutto e ora andiamo a riflussare tutto andiamo a misurare la battuta e andiamo a controllare con la boccola per vedere se dobbiamo ribassare ancora oppure no ok dobbiamo abbassare ancora di un millimetro la battuta quindi prendiamo la misura prima di quanto è per adesso e andiamo ad abbassare e andiamo ad abbassare la battuta ok ora procediamo con tutte e quattro le candele e poi alla fine andiamo a montare le boccolette finite così abbiamo l'allineamento preciso per com'è se no dovremmo andare a montarla su una fresa e andare a centrare la testata nelle condizioni precise e andare a fare questo lavoro e allora dopo ho fatto la battuta delle boccole per la candela sono state fatte tutte e quattro andiamo sulla testata per andare a fare questa incavatura di bloccaggio della bocca che verrà poi saldata quindi un attimo che piazzo il tutto e vi faccio vedere andiamo a fare questa incavatura andiamo a fare questa incavatura e quindi un attimo che andiamo a fare questa incavatura andiamo a fare questa incavatura andiamo a fare questa incavatura per poter andare a saldare la bocca e quindi l'abbiamo fatto su tutte e quattro e qui è dove dobbiamo andare a saldare la testata e qui c'è da modificare la camera per agevolare un po' l'uscita quindi ora vi faccio vedere la lavorazione completa ora andiamo a montare le boccole e poi facciamo poi la saldatura e allora andiamo a lavorare leggermente la camera e allora andiamo a fare questa incavatura e allora andiamo a fare questa incavatura e allora andiamo a fare questa incavatura Dopo aver lavorato la camera ho fatto una maschera, così la posso andare a fare sia il negativo e poi la rigiro per controllare le altre camere e aver portato in lavorazione bene o male tutti e quattro uguali e poi prima di andare a lucidare ora andiamo a fare la saldatura e poi raccorderemo dove abbiamo lavorato e andiamo poi a spienare la testata. E allora amici, come vi dicevo andiamo al montaggio delle boccole, andiamo a pulire la testata con la benzina, l'importante è che la boccola sia libera di poter avvitare e senza mettere niente andiamo a montare le quattro boccole. Grazie a tutti. ok andiamo a precedere con le altre tre perché non sto montando nessun bloccafeletti perché lo dobbiamo andare a saldare quindi poi ci farà fare la saldatura malamente quindi non dobbiamo mettere niente né olio né niente l'importante è che avvitano liberi per come li sto montando io liberi però senza che abbiano troppo gioco se no la flettatura la tiene poco lo vede? c'è nessun gioco sia a salire e nemmeno laterale meglio perdere due minuti in più nel fare la flettatura bene ok 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 l'abbiamo fatto se vediamo le boccole sono al limite della testata ok ok sono proprio a filo sia di di tutte e quattro le camere di scoppio qui viene fatta la saldatura per bloccare la boccola e dopo andremo a ripassare il maschio se c'è una leggera fusione della boccola e questa è la candela e questa è la candela poi quando andiamo ad avvitare ce la troviamo a filo di testata quindi non dobbiamo avere nessun filo di di flettatura libera sia dalla candela sia dalla boccola leggermente appena viene saldata se ci andiamo a togliere qualche leggero mezzo freddo che che fa di ostacolo e può fare l'auto accensione della benzina quindi andiamo a saldare ora allora amici ho fatto la saldatura ora andrò a pulire e poi alla fine sarà spianata sia da questa parte che poi dal lato collettore qua abbiamo fatto una saldatura di riempimento nell'angolo dove c'era l'auto accensione ora devo fare soltanto questo pezzettino visto che è ancora calda e qua abbiamo usato l'altra candela e allora ho terminato anche questa saldatura da fare anche se ho avuto qualche problema perché quando già c'è stato usato un altro tipo di prima è stata saldata a filo e quindi come si vede in certi punti ci sono delle sbolleture che la saldatura a tic diciamo che non fa se la andiamo a lavorare si vede pulita tranne se non c'è sporcizia e di fatto quando si va a saldare bisogna attendere qualche poco quanto esce fuori la sporcizia che c'è perché l'alluminio è abbastanza poroso da saldare e poi è stato saldato con un altro materiale diciamo come composizione è un materiale più duro e quindi tenta pure a spaccare leggermente per questo motivo comunque ho ripristinato la saldatura ora vado a pulire il tutto e poi andremo a fare gli ultimi lavori di spianatura e ora vado a fare gli ultimi lavori di spianatura e allora questi sono i lavori attestati e completati è stata rifatta la spianatura dopo aver saldato qui la parte dove si era bucato per andare a finire dentro il condotto e quindi si è ripressionata tutta la base dove appoggia il collettore sul lato delle candele le quattro boccole che sono dove va a vedare la candela con diametro piccolo da 10 mm quindi la candela poi stretta sulla faccia si limita a facciare a malapena sulla camera di scoppio quindi come l'altezza va bene ci sarebbe poi soltanto da fare finire proprio leggermente qualche filetto della testata che è rimasta poi come camera di scoppio la saldatura della detonazione è stata rifatta come anche la lesione che c'era sulla testata è stato lavorato l'uscita del flusso che va a mettersi dentro la camera di scoppio e anche lo scivolo della parte dello scarico è stato pure sistemato poi alla fine è stata fatta anche la spianatura sulla sulla testata quindi ora vado a montare le due valvole per avere un grafico della prova del flussaggio sul collettore sul collettore è stata ripristinata di nuovo la superficie da appoggiare sulla testata perché era tutta deformata a causa del surriscaldamento e male montaggio e quindi è stato pure rifatto anche l'altro piano dove attaccano i collettorini del collettore quindi ora vado a fare un'ultima prova di flussaggio con il collettore e poi senza collettore alla fine vi farò vedere il grafico e sul prossimo video poi andremo a fare quella della testata in dettaglio sulla PBS un'altra modifica che c'è un'annotazione che dovevo rifare qui su questa testata l'altra volta avevo detto che c'erano troppa differenza nell'inclinazione delle guide bene tra questa e l'altra testata sono andato a controllare l'inclinazione c'è un grado di spostamento quindi quello che a primo sguardo era sembrato eccessivo a causa della differenza della sezione delle valvole una volta poi misurato ho valutato questa differenza comunque che fa sempre qualcosa a livello di emissione dei gas cioè dei flussi dentro la camera di scoppio e quindi qui ci sarebbe che la possibilità di montare anche delle guide con diametro interno da 6 mm e adottare anche le valvole da 6 mm quindi avere un peso leggermente minore anche perché si può montare la valvola con diametro più piccolo come abbiamo sempre valutato quindi il 32 è troppo eccessivo sui condotti poi volendo come ho fatto sulla sulla testata così ho dato soltanto una pulita con la tela quella grana 60 anche 80 volendo da dare un leggero incrocio e quindi si può fare questa lavorazione anche sul condotto e nel montaggio di stare attento a non avere queste fuoriuscite di materiale siliconico per andare a sigillare superficie non c'è bisogno di montare questo siliconico qui sull'accoppiamento tra carburatore e faccia del collettore andrà affatto una leggera guarnizione sottile e poi al limite mettere un materiale questo per sigillare i campi ma proprio uno strato sottile quando non riesce poi ad avere ostacoli dentro il flusso del condotto ok andiamo alla prova del rossaggio e per questo video andiamo poi a finire e allora finito di fare le due prove andiamo a vedere i dati e poi vi faccio vedere che cosa ho fatto l'ultima modifica per fare questo grafico e allora questo è il grafico che abbiamo fatto della testata e poi ho frustrato con come avete visto con il collettore fino ai 5 millilitri è sempre uguale perché giustamente non abbiamo variato le aperture come sezione rispetto al condotto e in alto abbiamo leggermente recuperato qualcosa perché giustamente anche il condotto va a indirezzare leggermente migliore il flusso come vedete a 6 millimetri c'è un picco di miglioramento e poi si stabilizza cosa di poco a 12 millimetri poi abbiamo stabilizzato il tutto sempre dal condotto se vogliamo andare a fare il riferimento con l'altra prova di testata questa è la curva che va a cambiare soltanto in alto e in basso quella modificata sempre con la plastichina ripeto siccome la camera di scoppio non era definita con questa abbiamo un leggero miglioramento nei bassi in alto invece con quella poi abbiamo qualcosa in più anche se onestamente la sezione dei passaggi è leggermente poco quindi un millimetro in meno non la posso modificare perché quando ho saldato ho visto che le pareti del condotto erano sottile quindi non vale la pena andare a rischiare e la modifica che è più evidente nella camera di scoppio ora andiamo a vedere la sezione prima della guida è di 24 e 5 su questa testata ciò che ci limita nel riempimento all'alzata della valvola dopo i 6 millimetri di apertura allora l'unica modifica che abbiamo fatto era questa uscita che abbiamo agevolato tutto la valvola di scarico l'ho rientrata sulla base della testata soltanto per fare la prova è una valvola più piccola e poi la sede si trova sullo stesso piano della testata perché ho visto che è ribassata alle basate apertura della valvola portava ostruzione la valvola invece da 31,3 questo è il profilo della valvola e l'ho stelo portato a 5 millimetri e 3 ok e allora ci andiamo a risentire al prossimo video grazie a tutti